L'assessore comunale di Torino, Paola Pisano, è stata designata come ministro all'innovazione del nuovo governo. Soddisfazione e orgoglio per il sindaco Chiara Appendino. Piemonte guadagna due ministri della parte politica del 5 Stelle, di cui una mia assessora. Sono molto orgogliosa e credo che questo rafforzi anche Torino nel contesto nazionale e credo che sia anche un grande riconoscimento del lavoro che ha fatto Paola con questa amministrazione per questa città. Quindi sia un riconoscimento per Torino, sia un riconoscimento del lavoro e del sistema che si è creato qua in città, dal sistema aziendale, dal sistema universitario, tutti coloro che hanno creduto nell'innovazione che è la nuova vocazione della nostra città. E credo che questo importante ruolo che è stato segnato a Paola rafforzerà anche dal punto di vista progettuale e d'immagine Torino, non solo a livello nazionale ma direi internazionale. La legge non prevede un'incompatibilità per cui non decade nell'immediato. Questo ci permetterà di avere un po' di tempo tecnico ovviamente per gestire i passaggi di consegne perché Paola ha dei progetti importanti che hanno bisogno di continuità e quindi ci confronteremo. Penso comunque a un profilo che possa dare continuità al lavoro che lei ha fatto, quindi altamente tecnico e professionale come è stata lei. Però non è una cosa che succede domani, ci prenderemo un po' di tempo anche perché ci confronteremo con Paola.